Buongiorno a tutti, siamo qui con Cristian Prestera, head coach della KBS Colorno. Cristian, dopo un avvio di campionato difficile, tra ottime prestazioni consecutive. Due vittorie con Viadane e Lazio, una bella battaglia con Valoregby. Cosa è cambiato, soprattutto a livello di mentalità? Buongiorno a tutti. A livello di mentalità, sicuramente c'è un periodo di adattamento a questo campionato. Quindi forse l'approccio a giocare 80 minuti a questo livello, che le prime partite abbiamo fatto un po' fatica. Però ci siamo sempre concentrati molto su di noi, sugli aspetti che dobbiamo migliorare nel gioco. Sicuramente quello sta venendo fuori. Queste tre partite ci hanno resti consapevoli che siamo in grado di battere chiunque. E dipende solo da noi, dalle nostre prestazioni, da giocare 80 minuti. A volte commettiamo errori che a questo livello si pagano cari. Soprattutto le prime tre partite ci hanno insegnato quello. Domenica scorsa Correggio meritavate perlomeno un punto di bonus. Credi che vi sia mancato quel pizzico di esperienza nel gestire le fasi cruciali del match? Dopotutto le loro marcature sono arrivate da errori vostri. Come squadra neopromossa noi abbiamo fatto un piano di azioni per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Sappiamo quali sono le partite nelle quali possiamo programmarli per vincere e portare più punti a casa. E le partite che vorremmo portare punti a casa e come obiettivo era fare quattro mete per almeno fare un punto di bonus. I ragazzi hanno gestito, penso, molto bene la partita per portare il punto di bonus a casa, per segnare le quattro mete. In quella fuga di giocare sicuramente abbiamo commesso qualche errore che ci ha costato caro. E anche verso la fine della partita forse non siamo stati lucidi sulle scelte, però devo dire che i ragazzi si sono comportati e hanno portato avanti il piano di gioco che era quello di fare le quattro mete. Ci sono creduti fino alla fine. Quindi io vorrei fare i complimenti ai ragazzi e di continuare così perché questa è la strada giusta e penso che i frutti del lavoro stanno arrivando e arriveranno ancora di più. Dopo la pausa arriva forse il match più importante della stagione, il derby in casa con i Lions Piacenza. Quanto sarà importante farsi trovare pronti ed entrare in campo con la giusta grinta? Ma importantissimo. Comunque, apro una parentesi, bellissimo giocare questo campionato dove hai un derby con Biadana, un derby con Reggio Emilia, un derby con Lions perché sono veramente partite molto molto belle da giocare. e anche il pubblico, la gente li rendono più importanti. Guarda, Lions è una partita importantissima per noi, come era Valoregbi, come sarà Fiamme Oro la settimana dopo e come sarà Padova e Calvisano quando riprende la fase di ritorno del campionato. Noi stiamo affrontando ogni partita con l'importanza che merita perché pensiamo e siamo convinti che se facciamo bene il nostro ogni partita possiamo portare dei punti a casa che sono importanti per raggiungere la salvezza che è il nostro obiettivo. Cristian, grazie mille, complimenti per il lavoro svolto fin qui e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie mille a voi e approfitto per invitare tutti il 25 gennaio a Colorno che abbiamo questo bel match, questo derby contro il Lions Piacenza. Vi aspettiamo tutti allo stadio. Grazie. Grazie.